musica 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 salve a tutti ragazzi io sono Medara e adesso vi spiego un paio di cose ero tutto bello là che registravo o notte? dormo un attimo allora o no? no, chi se ne cula andiamo comunque cos'è quella cosa una capra? va bene e vi spiego dove cazzo? ok era tutto bello che registravo ho fatto un episodio in cui costruivo ho costruito quella fotottissima cosa la una fabbrica l'ho costruita per metterci dentro i i generatori geotermali perchè ci serviva tanta corrente però Kamatasia ha deciso che ha più o meno 16 minuti di non registrare più il video anche se comunque dopo aver velocizzato ne pesava cioè era lungo oltre 40 minuti quindi ho perso quasi tutta la registrazione vabbè questa è una cosa strana da vicino si vede subito accenditi o forse quando volo vediamo no provvedete anche sulla mappa si accende e si spegne sarà un bug grafico i don't know ok controlla latina qua prima poi useremo anche tutta sta roba oh ha raccolto un uovo ma quindi c'è un uovo no ok va bene così comunque però non c'è mob sono in peaceful no sono in normal perchè non c'è mob non sto a perdermi con queste cose e andiamo subito a fare quello che volevamo fare oggi sperando che Camantasia regga io direi quindi Minecraft uffa io direi che innanzitutto ci facciamo il nostro bel amuletto che ci creerà la nostra la nostra lava che è tra dark matter sei lava bucket ok quindi iniziamo qui dark matter aspetta spero che me ne abbia creati un pochettino di là di dark matter andiamo a vedere oh un creeper adesso devono venire fuori cazzo adesso che devo andarmi a muovere in giro che due coglioni dai scendi ah tantissimo non vengo a controllare uuuuh due dark matter e sei diamanti perfetto 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 no 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 ok protetto di spirito is the way gatto nero stai da ok prendiamoci un altro dark matter allora mio e ne abbiamo tre perfetto mettiamo a te a caricare dove sei caricati ottimo ottimo andiamo a prendere i tre lava i cd sei cosi di lava anche se io direi che me ne basta anche soltanto uno ok si ne basta uno dopo me lo trasmuto dov'è la porta qua vole e vado giù eccomi qua usiamo sempre la nostra bella fonte qua ok portale oddio che bug fuori r perfetto ora facciamo imparare il tavolo della trasmodazione ok 800 quindi mi prenderà non mi prenderà tanto vediamo 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 quanti me ne servono 6 1 2 3 4 e 1 5 perfetto poi io direi che me ne prendo quanto costa tanto mi serviva ne prendo uno di questi perchè mi direi te ne prendi un altro di questi no non voglio quella che ha fatto amico più grande ma bensì perchè l'amuletto funzioni e ho bisogno che ci sia dell'energia appunto che 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 come si può dire dai avete capito ho bisogno dell'energia come per l'anello per funzionare mettiamo di tutto a bruciare ok se ti bruci no non ti bruci te faccio sempre la stessa domanda e viene sempre la stessa risposta non importa quindi 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 io direi che può abbassare questa energia qua mettiamo a caricare questo qua ho detto che mettiamo a caricare questo qua perfetto ora quindi dicevo abbiamo la nostra base questo qua creerà dopo vedrete la lava quindi ci serve io direi che la pompa e la destino ne andrò a prendere la di là che tanto non me ne faccio niente quindi poi mi serve mi serve mi serve mi serve wrench ho detto wrench ho detto wrench eccola qua e mi serve innanzitutto un timer eccolo qua eccolo qua e mi devo fare un deployer mi sembra di si esatto un deployer ok pistone chest ok dammi un pistone pistone request ok quindi mi servono 1 2 3 4 5 6 1 1 di redstone 1 di redstone e e e e e mi sono perso ah una cesta giusto e una cesta eccola qua ok facciamolo tum 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 qua qua e il pistone che però andrà qua ok via il nostro deployer ho ancora un po' di cavetti ok uh sono pieno perché li faccio ogni volta non trovandoli ok abbiamo tutto ci facciamo una leva ci facciamo una leva ottimo e abbiamo tutto per il momento intanto iniziamo a mettere i nostri tank per fare un po' di lava così dopo staremo prima vola tum 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 ormai ti resta soltanto acqua anche si è bugata cioè non si è bugata già sotto ma bisognerebbe togliere uno che tank mi devo fare quindi via ta via ta via ta via ta via ta via via cazzo via ta e via ta ottimo il tank qua ne ho ancora di tank vediamo di tank posso fare così se ne ho ne ho tre pochi pochetti dai dopo me ne vado a fare ancora per favore ma perchè tu sei vivo non sembri sotto ok boh ciao lupo mannare roba inutile ok ok come te li vedete qua ho messo un timer questi qua sono quelli di cobblestone che portano su dove si illuminavano i due in mezzo quindi ho fatto questa roba qua con l'arthstone white ottimo prima cosa direi che iniziamo a metterli qua facciamo qua mi serve buco per deployer buco per il time ah si c'è la clai sotto giustamente e buco per la lava dovrebbe essere a posto allora deployer poi minecraft buco per deployer oh cazzo ok poi meglio fare così si si meglio fare così buco 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 bello timer andiamo ok ok e io direi che se mi ricordo bene era più o meno 5 per sincronizzare in poca prova la pompa che dopo tira su il è il deployer noi adesso ci mettiamo dentro il vulcanite naturalmente senza caricarlo e non farà niente vedete ottimo se noi invece adesso prendiamo sentite il rumorino perché non c'è niente noi ci mettiamo la nostra clean star e paf lava davanti così all'infinito ok poi ma perché mi parte via mi cammina da solo non si sa quindi pompa pompa ho detto la mettiamo la mettiamo che questa altezza qua dovrebbe andare si 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 ok redstone engine quindi te 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 uh che numeraccio che numeraccio e facciamo che dopo il tank lo mettiamo qua ok adesso quindi uno qua e si illumina loro due e uno qua no non si illumina nessuno che palle ho un'altra adesso un torch dai sono pieno ok ce l'ho e te ti metto qua funziona? ok funziona tubi wooden ok questo qua e e e e e una cosa di waterproof qua per sicurezza i tre tank ok quindi legno water 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 ok ok così qua va bene dai per il momento ok per il momento va bene andiamo vediamo se è più o meno sincronizzato ok perfetto mette e raccoglie subito più o meno no dobbiamo aumentare ancora un po' il timer no così è troppo prova prova vediamo giucciata si è un po' difficile sincronizzare no facciamo 6 secondi è morta la dai e se siamo sicuri ok qua intanto inizierà io direi che intanto dobbiamo farci i generatori lì generatori hopper la e gli spari di avere le cactus io no vedo la mia fino a io in fondo eh no no non mi piace questa cosa no mi piace questa cosa perchè in realtà sono dei shorty è andata puttana ok ho due cactus per fortuna ok perfetto ora geothermal generator ok vuol dire che un generatore e anche le batterie quindi che mi vado a fare da basso quindi per le batterie per le batterie ci faceva tin redstone e chopper cable quindi per le batterie ne ho un no no sono in particular queste ho anche già dei generatori ma non importa quindi mi serve shopper due di redstone e due di tin no 4 tin ok andiamo giù intanto ci facciamo questo non ho più di quei tubi spero credo di non averli più capito ma li vado a fare io di sopra dopo ok intanto ci facciamo una nostra bella batteria qua te così te così e te così e te così e mi vado a fare ancora un po' di questi quindi me ne servono due tre quattro sei e quanti logistic pipe ho? quanti logistic pipe ho? ahhh neanche uno ma mi faccio averli finiti tutti cazzo va bene me li faccio ok ho quasi tutto qua ho messo un'altra fornace che mi crea i i definite d'ore perchè ne avevo bisogno ok quindi scendiamo giù bene allora avevo le batterie qua mi sembra ok qua ci facciamo le batterie dopo qua ci facciamo una fornace ci facciamo una fornace cazzo se dirne ho va non nemmeno che ne hanno a cobblestone qua merda torno subito così vado a prendere anche le batterie anzi quindi torno su dai dai su 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 muoviti 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 ok pietra ecco uno due tre quattro cinque sei sette otto perfetto ci facciamo la nostra bella pietruzzola la nostra bella fornace ok dopo qua ci dobbiamo fare la iron furnace quindi ci dobbiamo prendere uno due tre quattro cinque di te poi 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 quindi dobbiamo prenderne una silver questo un due tre quattro ok così dovrebbe andare ci prendiamo le batterie che adesso dovrebbe rilevarmi ok non ce ne serve una teoricamente basta vediamo no ne saranno tre una di queste si ma ne saranno tre ho un'altra due ok muoviti eccoci qua allora innanzitutto crafting qua e importiamo poi quindi con una fornace e cinque di iron ci facciamo l'iron furnace qua import ok per il file generatore adesso si fanno e che palle eh sono incognito forte ok batteria tre refi needed e un iron furnace e l'iron furnace mettiamo qua allora batteria tre iron e l'iron furnace che non c'ho giustamente oh che palle fare un po' di giri ragazzi ha fatto la puttanata perchè non ci vanno le batterie ma ci vanno le empty cell quindi quindi sarà meglio quindi sarà meglio farci la craft anche di quelli tanto me ne avanza giusto uno però intanto dove avvenne qua due ok uno e una due batterie via qua ok le empty cell si facevano con le tin mi sembra ok ok quattro tin se così se ne fanno 16 uno due tre quattro ottimo finalmente avremo finito sta lunga agonia via te no qua esattamente qua ok abbiamo il generatore e con quattro tin ci facciamo le empty cell perfetto ora 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 tu qua tu qua import 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 e siamo a posto vediamo se funziona il tutto dovrebbe andare dovrebbe aver fatto tutto non dimenticato niente non c'era meglio mettere un request anche da basso invece ha fatto tutto così ogni volta ne facciamo dieci intanto dovrebbe bastare sass full vediamo scendi vado fate come lavora pam 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 ba guardate quella velocità sta creando tutti vedete mette tutto Lascio arrivare i generatori Ah, la petticelle Vedete, il rio generatore parte via tutto Perfetto, guardate come lavora, cazzo Cazzo, guardate che roba La petticelle la mettiamo da giù Uh, già tutti i dieci, perfetto Via questa petticelle Ah, perché le avevo già cevate tutte, per questo mi tornavano qua Ok, ora mi servono i, i, i Questi qua Uh, vetro Glass, diamante Boh, intanto direi che quello lo facciamo la prossima volta Dormo, anzi ormai è il giorno Cazzo, cazzo, cazzo Fortuna che andranno in zombie sotto Se non mi avrebbe fregato, non era come l'ultimo Ok Vedete che lo io ci Vedete che lo io ho in MF qualcosa Ok, io direi che ci facciamo La nostra prima colonna Qua Su Shift 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 Su 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 Shift 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 E Su 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 questi qua ho un redstone engine no gioco a fare casino con redstone engine exactly mettiamoci waterproof qua intanto via 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 ok qua ci metteremo con l'altro quindi si spacca qua si spacca qua ecco l'acqua bene la perché rimane le due palle chiuso 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 e via l'acqua ok ora la testa engine dovrei avercela ancora vediamo vediamo no non ne ho vabbè ok eccolo qua uuuu 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 no ne ho sempre di torcia dietro cazzo spero io ho sempre torcia dietro ok ma cazzo ok torcia redstone e tubo ok funziona adesso adesso inizieranno a entrare si caricheranno e basta però non uscirà ancora corrente perché poi si caricherà di corrente perché non abbiamo ancora collegato niente in uscita che faremo la prossima volta comunque sarà meglio aumentare il i tank perché ne viene fuori tanta di questa roba qua insomma dopo farò una serie di tank un pochettino più migliore ma non può essere che davvero non li hanno più messi i valve non si chiamavano cercherò comunque bene quindi da metà è tutto vediamo un pochettino più corrente alla prossima volta ciao a tutti